ma toglie due con giudadu c'avevi il coso quando per cura fra io non lo so preso ma è certo certo lasciatevi in pace è che carne ma fai quello che ti pare no 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 eh sì sì la calma e pure oh 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 ah 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 Pararissimo E' una massacra dovrei riuscivo ma c'è perché la resta della cosa no no qua era il gruppo però il coso rosso anche l'usurro però vi dall'alli d'aparte guarda davanti corone madonna ma quello che l'ha data la kill di quello la di prima perché te la vendi a fare una corona ma tanto a te quindi c'è uno qua eh sì abbiamo otto giocatori cinque squadre 2 1 1 1 1 si vado cazzo vado stanno a tutti i lati che cazzo state qua oh ma che terribio stanno qua non ti ha visto nessuno ah ecco se questo di una roba è il cazzo proprio per te ma che stai a dire madonna mia c'è un panico ma che cazzo stai a dire oh che c'è questo uno contro uno oddio via se la vinci in coronata si sta curando si sta curando ma che stai a dire Ma che stai aci? Non ci credo Ma che stai aci? No, questa me la devo salvare No, questa me la salvo Ma che stai aci?